Fumettista, grafico, disegnatore e docente di lingue straniere, Roberto Battestini torna in libreria con il secondo capitolo della sua saga familiare. Abba Padre, pubblicato dalla neo-edizione di Castel di Sangro, è il racconto senza filtri della relazione difficile con un padre sfuggente e depresso, che dopo l'arresto e la tragica morte per fatti criminali di Rolando e Pasquale Battestini, membri dell'omonima banda e fratelli di Roberto, riversa proprio sull'autore, ultimo figlio rimasto, aspettative e nevrosi. Tra autolesionismo e sensi di colpa, Roberto Battestini racconta una relazione contrastata, ricca di colpi di scena, tradimenti e flashback, in cui anche i banali eventi quotidiani assumono un valore simbolico, talvolta comico e dagli sviluppi inaspettati. Abba Padre è un libro a fumetti ma nello stesso tempo è un romanzo. Nasce dal desiderio di raccontare la relazione con il padre, una relazione che è ovviamente ricca di contrasti, ricca di sfumature e di aspetti legati al fatto che mio padre è stato il padre di Rolando e Pasquale, della banda Battestini. Quindi tutto questo per me ha rappresentato ovviamente un modo di raccontare una saga familiare che è cominciata già con A Caro Sangue e che continua con Abba Padre. Come nasce un'opera a fumetti? Un'opera a fumetti nasce sempre dalla riflessione, da una ricerca. Le basi solide io generalmente le trovo nelle scritture, insomma anche negli scritti, nello specifico di Sant'Antonio Abate, che parla della visione dell'uomo, dalla fortezza, dal deserto e dalla terra promessa. Ovviamente tutto questo include questo lavoro all'interno di un progetto di saga che prevede tre volumi. Tutti gli aspetti che vengono considerati sono visti alla luce della mia esperienza personale, quindi è sicuramente un romanzo autobiografico, ma molte persone si ritroveranno e quindi in questo periodo anche di confusione, anche di ricerca, di risposte relativamente alla propria esistenza, al proprio stare al mondo, questo libro può essere un grande aiuto. Abba Padre è stato scritto e disegnato nel momento in cui c'era anche la pandemia? Da un lato è stato anche un aiuto ovviamente, anche se io avendo otto figli insomma in relax a casa non c'è stato. Diciamo che da un certo punto di vista la pandemia non l'abbiamo vissuta perché fondamentalmente eravamo sempre tantissimi. I miei primi lettori sono i miei figli, ma prima ancora sono io il mio primo lettore, di conseguenza scrivo quello che vorrei leggere. In previsione, in terzo volume di questa saga familiare, ci puoi anticipare qualcosa? Mi piace trattare temi fondamentali, nel primo ho parlato del tema della famiglia, nel secondo ho parlato della paternità e il terzo volume vorrei che raccontasse un po' la nostra relazione con la morte, che è uno degli elementi diciamo che più spaventa. Ovviamente lo farò a mio modo cercando anche di trovare parole che possano essere adeguate per tutti.